via ben trovati a questa serata subito il grande reali che è tornato nei massi delle cronache per salutare tutti quanti o fosse in compagnia del grande reali eccolo eccolo in mezzo a due ali di polla reali all'acqua il gioco a palla in mezzo esce il gol realizzato da lp costruzioni che dà in vantaggio con lucas conness la contraffensiva faccia spazio per agostini federico agostini il gol del 2 a 0 il radotto stavolta gioccherini mamma mia cambiatele non le pago io il set di maglietti e lo faranno io sopporto il tiro stadio sol panelli a corsa di distanze per olimpia caos siamo 2 a 1 via è appena iniziato il secondo tempo questa partita tra lp costruzioni olimpia caos che fa a terra ecco lo serpente e arriva subito la coltarrosta il gol che da domenico carino abbia firmato il gol del 3 a 1 si è proprio lui carino 3 a 1 divertente finchiello finchiello che numero e poi gole interviene attenzione lo spazio a simone alessandro serpente il gol con qualcosa di distanza segnato neymar terranova serpente doppietta di neymar il bacio della telecasa oh grande neymar la palla davanti per un numero 7 giuseppe brancaso dopo aver calciata le stelle stavolta segna e dal gol del 4 a 3 maglialetta è finita c'è stata la vittoria davanti GMP costruzione da Gmx che ha caos per 4 a 3